Ha rifiutato il lancio Rubinia Griff, alla chiusura c'è Runaway Man che va facile davanti, attaccato da Rubinia Jet, che passa a condurre terza Robinale, partito bene dalla seconda fila Runaway Nando che però va a scurvare molto largo in terza ruota, all'interno c'è Rinalda, Galloppa, Rubinia Jet, così Runaway Nando si ritrova al comando. Numero 6, Rubinia Jet squalificato. Runaway Nando è in seconda per gli esterna, ci scusiamo ovviamente per la confusione tra il Man e il Nando, si passa davanti alle tribune con la risalita esterna in terza ruota abbondante di Raffica Oels dopo il 16.3 della curva. L'allieva improvvisata da montagna va da fiancare al comando Runaway Man, mentre Runaway Nando cerca di andare a propria volta in terza ruota. 16 secco di frazione, gruppo sempre compatto, non sortisce effetto per il momento l'avanzata di Runaway Nando. al comando Runaway Man, cala invece Rinalda al chilometro di gara, cerca di andare a correre anche Robinal, 15.8 della frazione, al comando Runaway Man. Adesso in terziglia però con Raffica Oels e con Runaway Nando. Poi c'è Robinaldi rincalzo, 16.3 la frazione, Cavalli ad affrontare l'ultima curva, cala Runaway Man. Tire forte Runaway Nando su Raffica Oels che ha conquistato il comando, i due seguiti da Robinaldi, la dirittura all'arrivo dopo la curva in 15 spaccato. Raffica in vantaggio ma Runaway Nando si propone a centro pista, Massimo Trevini non muove le mani, percorso sempre all'esterno e viene a vincere davanti a Robinaldi che probabilmente pizzica Raffica Oels. 1.18.6 il tempo del vincitore del chilometro, Runaway Nando con Massimo Trevellini da allenatore e guidatore per i colori della figlia Francesca.